Noi crediamo nel futuro, il suo. Ciao, io mi chiamo Stefano e vengo da Cagliari, ho 19 anni. Frequento qui a Bologna il primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia. Ho frequentato il liceo scientifico poiché le scienze mi hanno sempre appassionato, poiché sempre ho trovato gusto nello studiarle, nelle possibilità che ti diranno di discernere, di scoprire, di dedurre e capire. A liceo scientifico ho trovato un ambiente molto fertile però che comunque ti lascia un limite e quel limite lo puoi superare tanto andando all'università, per cui ho scelto di iscrivervi in un corso di medicina e chirurgia per studiare l'uomo, per vedere come era fatto, per capire la biologia dell'essere umano. Ho scelto Bologna, poiché Bologna è una città veramente viva, incredibile. Al di fuori dell'università, che è una didattica veramente efficace, veramente funzionale, ti dà poi un sacco di possibilità per andare all'estero oppure anche per incontrare con convegni e seminari che sono organizzati, non dico ogni giorno, però ogni settimana ne trovi qualcuno. Io ho sostenuto un concorso per l'assenzione di una borsa di studio per la frequenza al collegio superiore, che ho vinto, da cui mi hanno dato la possibilità di alloggiare nella residenza degli studi superiori, di frequentare, anzi un obbligo, di frequentare i seminari, i corsi in più, ma anche la possibilità di fare scambi all'estero e avere comunque un ambiente sempre vivo, ricco, fervido, dove ci sono studenti di tutte le facoltà selezionati appunto da questo concorso, dove puoi confrontare le tue idee, puoi ragionare su qualsiasi cosa. Grazie alla borsa di studio ho la possibilità di sfruttare un collegamento che possiede l'Università di Bologna con l'Università di Buffalo per gli Stati Uniti, che mi consente di fare una summer school, dove potrò studiare l'anatomia, l'anatomia settoria e quindi acquisire una conoscenza del corpo maggiore e migliorare la mia formazione. Bologna è una città che ti offre tutte queste possibilità. Per questo la mia scelta è stata diventata verso me. Un 5 per 1000 è utile perché sostiene il merito e lo trasforma in benefici per tutti. Il tuo aiuto migliora il presente e sostiene il futuro.